I compari della puttia, facciamo un grosso applauso tutti insieme, dai applaudiamo per favore, ma dove è la gente qua? Oh mamma, mamma, ma ragazzi tiriamo fuori le mani dalla tasca e facciamo un applauso, dai bella gente, se vediamo è buon Natale. Sospensione dello spettacolo per 30 minuti, si riprende alle 17.30, non so se abbiamo tempo ancora di fare un'altra canzone, facciamo in tempo a fare un'altra canzone? Un mastro gustureri, un mastro gustureri, Filippo, Filippo. E' un mastro gustureri, capomastro di un paese, ma la nuova amici viene sempre conto che mi dici, ma la nuova amici viene sempre conto che mi dici. I festi caporanno, mi portano vestito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito. I festi caporanno, mi portano vestito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito. E' un'altra canzone, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito. E' un'altra canzone, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito, ma struvar nel comando, cuocetelo pulito. Buon Natale Milano Buon Natale Milano Si riprende alle 17.30 giusto presidente? perfetto ok